buonasera allora eccoci qua mi aspettavate in serale no allora sono in serale perché vi voglio annunciare questa promozione nuba e farvi capire che cosa succede allora lano uba cosmetics made in italy di bergamo mi sei chiudata porta da sola dentro a sto negozio una cosa incredibile vabbè e tutta made in italy nickel free not testato su animali che è una cosa molto importante sta facendo una mega promozione per far girare un po i prodotti per far conoscere il prodotto e ve lo voglio annunciare allora ha mandato in sconto tutto soprattutto il fondotinta anche fondotinta all'acqua come potete vedere allora nubamore da 37 euro 28 istamina per chi utilizza sempre il fondotinta o comunque vuole fare un una ricarica da 38 28 ideale da 37 25 che è un po un fondotinta in crema un po idratante per chi soffre di pelle secchissima si fissano tutti ovviamente lui è il fantastico nubamore fatto acqua niente ho lanciato tutto lo mio solido e ha fatto lo sconticino anche su il nubamate da 43 euro in genere c'era lo sconticino di 35 viene 30 euro tutti gli ombretti magic color anche il nero e rosa che non c'è la prova vengono 13 euro vi dico che sono wet and dry quindi li mettete li potete praticamente diciamo potete bagnare il pennellino e fare l'effetto eyeliner e abbiamo questi colori che sono fantastici anche nel rosa leggero abbiamo il rosso e nero che non c'è qua dopo ve lo faccio vedere mentre mi faccio vedere gli altri colori tutti blush in crema 18 euro che vi ricordo il blush in crema lo potete mettere blush lo potete mettere sopra la ciglia lo potete mettere per fare un effetto naturale sulle labbra si fissa anche lui tutti blush e le terre piccoline vengono 20 lady vino nuba da 38 25 che sono civili compatte la power magic da 38 viene 27 scontata e loro una cosa eccezionale i magici rossetti nuba che voi sapete che nuba non lavora con i siliconi diciamo che l'azienda delle polvere dei rossetti è l'azienda di chanel quindi quando voi mettete un rossetto rimane 24 ore davvero non secca le labbra e ha dei colori veramente fantastici da 24 euro 14 stessa cosa per i mille baci da 29 14 loro sapete che si fissano c'ho anche tutti i nude che vi faccio vedere sono questi che c'ho sulla mano che sono stupendi fine esaurimento scorta ovviamente stanno 14 euro tutti i colori che vedete qui anche questo che porto che è fantastico secondo me che in color terra che non lo so perché l'ho sempre ignorato invece è stupendo adesso vi dico che è il 72 se non erro non trovo più vabbè anche il 61 è molto bello è così un color safari non lo so perché a me d'estate mi piacciono questi colori molto mattone perché mi danno un po di africa molto abbronzatura secondo me sono molto belli sono molto chic come il nero per esempio i colori scuri visciola sugli smalti mi piacciono più in inverno che in estate queste sono le mie follie mentali ci abbiamo tutti i reflecta che sono luci di effetto volume come vi dicevo l'altro giorno ineguagliabile a parte che stanno di zucchero e fanno un effetto volume perché dentro c'è un pochino di mentolo diciamo che aumentano un po il volume e vengono scontati anche loro 15 euro allora tutti in uba vi aspettano e qui vi continuo la promozione c'ho un'altra promozione a tutte le borse quelle ve l'avevo già detto scontate 30 40 per cento ci abbiamo il fuori tutto delle borse già pre saldo ovviamente le borse estive di neri di oleari che sono arrivate tutte foderate foderate fantastici dai 25 29 più o meno euro tutta la parte solare questi sono la cosa fantastica e si sta vendendo più di tutti questi giorni insieme sempre al detergente ricominciamo poi con le top 10 mi sto preparando per le top 10 il detergente viso quello struccante che è fantastico e l'acqua micellare questa di malinca che viene 7 euro e 90 questa 6 euro e 90 la micellare di alea 7 90 e latte detergente e micellare bifasica di malinca sono sempre nella top 10 della giornata che vi volevo parlare di un'altra mega promozione a parte che come voi sapete ho comprato sta luce fantastica come voi sapete mi sono arrivate tutte le maschere viso adesso ve le faccio vedere perché in questo periodo dobbiamo un po rifarci il diciamo lo strato di pelle come avete visto l'altro giorno vi ho pubblicizzato molto loro che sono sali scrub buonissimi io l'ho preso come avete visto ho fatto il tiktok praticamente mescolate con un bastoncino e spalmate sul corpo e sentite proprio l'olio essenziale che nutre la pelle quindi a chi soffre di pelle secca chi vuole proprio rigenerare la pelle una volta ogni due settimane se fate questo è una cosa fantastica anche per far attaccare meglio la bronzatura perché se noi abbiamo la pelle morta la bronzatura si attacca male poi mi dite c'ho le macchie mi sono venute macchie mi sono abbronzata macchie come mai è perché dovremmo fare a cambio stagione sempre un peeling un gommage sulla pelle teologi anche a questo gommage sotto la doccia addirittura è viso corpo viene 20 euro e sono 200 ml ischia viene un pochino di più viene 31 90 se non erro scontato viene sui 28 euro sono 700 grammi 700 grammi e quasi un chilo insomma di sale e poi all'interno c'è tutta una tipologia di sali particolari teologi fa anche che sono cristalli di zucchero sale di lima laia all'interno per fare proprio uno scrub peeling al viso e lasciare sempre con questi oli essenziali la scia morbida sul nostro viso e abbiamo sempre stessa linea l'infuto di green tea per il corpo e anche qui ci abbiamo tè verde oli essenziali oli nutrienti e sale dell'imalaia e ci abbiamo anche un'essenza di bergamotto all'interno anche loro fanno 450 grammi e mi pare vengano sulle 30 29 euro abbiamo la confezione speciale infuso di grinti e la fantastica jasmin tea che è una rassodante sentite bene rassodante la jasmin è una crema fantastica che io vi do i campioncini quelli verdi e rassoda veramente poi se volete proprio fare il top del top c'è la p body e lei praticamente fa un istantaneo effetto lifting e brucia proprio un anti cellulite effetto top praticamente effetto immediato lo sentite subito perché sentite tirare la pelle la teologi come sapete lavora con il 96 per cento di tè invece dell'acqua all'interno delle creme e ischia lavora con gli oli essenziali e il fango come noi troviamo la fantastica saponetta al fango questa praticamente è come se faceste una maschera istantanea usata anche tutte le sere è come se fate una maschera tutte le sere al viso soprattutto per chi soffre di pelle grassa per chi soffre di acne per i ragazzi c'è sia quella col massaggio che potete far rassarla anche sulle braccia e sulle gambe soprattutto in questo periodo e c'è anche quella semplice a mattonella vengono adesso sono aumentate due euro vengono sette euro ma durano praticamente un anno io l'ho aperta l'altra estate ancora ce l'ho uso tutte le sere è fantastica proprio sentire l'effetto fantastico sulla pelle sempre in questo periodo io vi consiglio tanta tanta tutta la sorta di maschere di teologi dalla purificante proprio come dicevamo adesso per purificare la pelle anche per togliere un po di smog che noi comunque in città siamo invasi da sto smog micidiale e quindi questa serve proprio per togliere per esfoliare e purificare la pelle poi ci abbiamo la nostra lumagina in offerta 5 euro e è la nostra acido yellow runic collagene bomba multivitaminica lumaca e un'altra fantastica è l'anti age e idratante adesso ve la faccio vedere alte mascia livellante idratante fantastica compresso attivo design ingredienti botanici rassodante nutriente e queste sono tutte le tipologie di maschere che potete trovare qui mi sono arrivate che me l'avete chieste tantissimo i patch quelli da mettere solo sotto l'occhio che tirano nutrono e fanno questo effetto un po lifting da fare sempre mi raccomando non è che dovete fare tutti i giorni la maschera la fate magari una volta a settimana fa della purificante poi una settimana dopo va ad ed idratante poi la settimana dopo non la fate e non è che vanno fatte tutti i giorni insomma io come sapete sto seguendo questa linea biologica diciamo sto facendo questa profumeria sana come dico io a base di cose sane non di siliconi vi ricordo che abbiamo anche tutta la linea di penelle all'altra promozione che era fantastica le la baba la frevola e la redemption con cui mi sono truccata oggi guardate che sfumature fantastiche vediamo se aspettate adesso vediamo sta cosa allora no questo è solo il volume vediamo così so gialla così so bianca così è luce naturale va bene no ho voluto provare questa nuova luce tutti i tutorial vi sbomballo questa luce che ciò per fare vedere i colori allora questi sono i colori della red insieme ovviamente questa rovinata perché la mia che ci faccio il tutorial oggi ho scoperto questo colore che è fantastico non l'avevo mai utilizzato mescolato con la base e il rosa nude fa questo effetto veramente bello di un trucco molto naturale mi raccomando ricordo sempre di mettere il correttore più chiaro laterale per fare questo effetto diciamo tirato dell'occhio anche loro sono in offerta da 28 euro 23 euro e la babba da 32 90 scontata 25 euro allora raccolta in queste fantastiche palette ci avete tutto quindi per partire essendo piatta avendo il cofanetto non vi intralciano e è il top perché vi portate un'unica cosa all'interno della valigia e non fare come me che mi sono portata tutto meno quello struccante e la crema e il fondotinta è una cosa fantastica che sono andata tre giorni e tre giorni portato tutto per tutti e non c'è quello struccante mi sono struccata con lo shampoo meno male che c'avevo e lo shampo e balsamo il bagno schiuma insomma di alea che è naturale e comunque era al cocco e non mi ha sfondato la pelle come crema fortunatamente ho trovato due campioncini e ci avevo buttato in borsa e mi sono messa fantastica lumaca che comunque è una multimunzione all'idratante allora ho livellato perché altrimenti comunque struccarsi in maniera avere una detenzione brutta è un risultato brutto poi sulla pelle che viene grigia secca eccetera eccetera vi ricordo sempre che noi abbiamo questa fantastica questo fantastico siero magico e vi ricordo che è un'azienda pure lui italiana fatta tutta a base naturale a base di rosa moschita che è un antiricolino naturale coltivato in cattività voi quando venite qua io la metto sulla mano voi vi confrontate la mano e c'ha un effetto immediato messo mattina e sera pelle umida ricrea comunque lo stato buono della pelle da luminosità perché all'interno c'è la lavanda e poi combatte a secondo il tipo di siero la problematica pelle secca pelle misca pelle impura addirittura c'è per la pelle impura per chi soffre di piccoli acne e brufolini poi vi ricordo che mi sono arrivati sempre i fantastici pennelloni per truccarci perché qua facciamo solo tutorial ma poi giustamente mi chiedete ma quale pennello devo utilizzare vi prometto che a breve farò un tutorial per fare la specifica pennelli occhi e viso allora ci abbiamo di tutto loro sono sedole poi ecologiche ma morbidissime come se fossero tasso ma noi ci diamo all'ecologia e quindi sono ecologiche in fibre sintetiche molto morbide che non ci pizzicano alla pelle e non perdono i piedi allora rd profumeria vi educa degli abruzzi vi aspetto con tutte le promozioni e con tutti i nostri must e le nostre nicchie buona sera